... Ma che cacca cacca ne che ranto la cioca che se cammensa? Ma che cazzo l'ha da è? Fuma, 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 bravo, bravo, fuma Come ti chiami? Samara Samara gente che ha bisogno, come ti chiami? Samara Ah, Caprara Mi zica comunque la cazzo succompanata, va? Capisci, va? Andiamo, vieni con me, dai forse andiamo, dai! Chi è che cazzo l'ha? Picchiare una fossa Camina, va, camina, camina Salute, buonasera, ciao Gianni Ciao Me lo fai una cortesia Certo Ci fa a sti cazzi cammini da chi sta, per favore? Oh Cristo Camina, camina, camina Vieni qua, vieni, 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 vieni Permesso? Salve C'è qualcuno? Scusate, avete qualcosa per l'asma? No! Ma perché si schiantano tutti? Io non ho capito, va Ma va, 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 va Francesco, quando vai, vi saluto Ma, ma caivano tutti si schiantano, io non ho capito che avevano che si avevano paura, non lo so, non ho idea Ma Pug Whichuawa Chiwawa Chiwawa Chiaatta Questa verla Ma cheنا Anglia Pug 이 Alla Caro Grazie a tutti